Io sono Costa. E tu? Chi sei? La ragazza che sono stata una volta e che non sono più. Lo stesso vale per me. Non sono l'uomo che... Quale uomo? L'uomo che era un tempo. Oggi ho visto un miracolo, padre. Che state facendo? Organizzano il matrimonio di tuo cognato. Mi sposo. Ho voluto venire qui per raccontarti la verità. Forse non dovresti. Tu non sai nemmeno chi sono. Vogliono me. Viva o morta. So che stai per sposarti. E so come mi fa sentire. Stai soltanto fingendo. Siete tutti uguali. Non è vero. Sì, lo siete. Non lo siamo. Ehi! Costa! Hai dimenticato il latte! Ciao! Io lavoro! Ciao! Grazie a tutti.